Quando Dio sarà tornato a Sion L'uomo lo loderà come prima La funzione dei leali servitori in sua attesa Sarà ormai terminata La cosa migliore per loro È contemplare la presenza in terra di Dio Dio infliggerà disastri A chi li merita Ma nella sua giustizia I leali servitori avranno grazia Punirà i malvagi Ma chi fa il bene riceverà I piaceri materiali Piaceri materiali È una rivelazione che Egli è il Dio di giustizia È una rivelazione che Egli è il Dio stesso della fedeltà È una rivelazione che Egli è il Dio di giustizia È una rivelazione che Egli è il Dio stesso della fedeltà Al suo ritorno a Sion Dio affronterà ogni nazione Condurrà Israele Alla salvezza E punirà gli egiziani La prossima fase dell'opera sua Non sarà come oggi Essa la carne trascenderà Come dice Dio Si compirà Come ha detto Dio Si adempirà La parola di Dio e il suo compimento Accadono in sincronia Poiché la sua parola è autorità È una rivelazione che Egli è il Dio di giustizia È una rivelazione che Egli è il Dio stesso della fedeltà È una rivelazione che Egli è il Dio stesso della fedeltà Dio parla di ciò Per guidare la gente Affinché non brancoli Disperata Quando il tempo giungerà Tutto pronto già sarà Disposto da Dio Per ridere la gente Que es una rivelazione che Egliere la promocione Che abasterà Raptare il sul Americana Chi seus guilt Per어나 83 Che abasterar Chi seus guilt Grazie a tutti